buongiorno benvenuti a questa video analisi del 20 ottobre 2016 è il giorno della bce intanto questa notte c'è stato il confronto tra la clinton l'ultimo dibattito prima della votazione che ci sarà inizio mese di novembre tra clinton e trump come sono detti di tutti i colori oggi c'è il l'appuntamento con mario draghi alla mia destra vedete già il grafico euro dollaro che si prepara quindi a questo appuntamento con una discesa dopo che ha rotto questo supporto in aria 1 11 e 50 questo supporto qui c'è stata discesa siamo adesso 1 e 10 trend quindi è al ribasso in questo momento non penso non ci aspettiamo il mercato non si aspetta delle novità riguardo al meeting di oggi dalle 14 e 30 sarà interessante però sentire draghi se ci sono nuovi sviluppi su quello che è il lavoro che stanno portando avanti in corso in questo momento il comitato di tecnici che è stato nominato di esperti nominato da draghi annunciato a settembre i cui lavori saranno probabilmente pubblicate a dicembre quindi oggi proprio nulla dovrebbe essere abbastanza tutto filare liscio tranquillo se scappa qualche parola non lo so potrebbe esserci della volatilità però insomma le attese sono per un nulla di fatto però vedremo se qualcuno chiederà anche in merito al rumor Bloomberg che c'è stato tempo fa su una riduzione degli acquisti mensili da 80 miliardi a 70 miliardi che cosa insomma stanno preparando questi tecnici che sono lì belli chiusi nel loro stanzino e chissà che cosa tireranno fuori dal cilindro a dicembre a dicembre quando poi ci sarà anche probabilmente il rialzo dei tassi americani quindi sarà interessante che una volta la direzione opposta delle politiche monetarie espansiva per quanto riguarda quella europea invece si va verso una stretta ad un rialzo dei tassi per quelle che riguarda l'America e non è solo ovviamente il divario con quella europea ma anche sappiamo bene Giappone giusto per vedere chiamarne una o Sterlina in questo momento si va anche lì verso un taglio dei tassi. Ieri però c'è stato il meeting della banca centrale del canada che ha lasciato tutto invariato però però c'è un però importante vediamo il grafico del usd cad come sempre l'invito a mettere a tutto schermo così potete leggere bene i numeri con i supporti resistenze che sono indicate a sinistra è stato annunciato un nuovo pacchetto di misure espansive e quindi vendite di dollaro canadese che portano usd cad a salire e infatti vedete si sta formando una candela verde usd cad che veniva da un trend discendente dalla resistenza in aria 1.33 ieri sulla speculazione sulla volatilità durante il meeting della banca centrale canada si è arrivato a sfiorare 1.30 vedete una decisa accelerazione poi si è ripreso tutto ha chiuso esattamente a 1.31 e 33 100 pips quindi sopra quello che era stato il minimo adesso sta disegnando una verde quindi nuova inversione vicino a quella che la resistenza 1.32 e 96 questo poi se lo andiamo a incastrare col petrolio perché è inversamente correlato se mediamente non è automatica la correlazione si sale uno scende l'altro si dice appunto negativa c'è un petrolio che questo è un grafico però aggiornato a ieri daily oggi vedo siamo sui 52 quindi siamo vicina ad una possibile violazione di questa resistenza quindi queste candele rosse e kinashi candele e kinashi che ricordo come sempre sono molto simili alle candele giapponesi però hanno soprattutto cambiano i prezzi di apertura e chiusura perché sono il risultato di una formula molto simile a quella dei pivot point il bello la differenza rispetto a un classico candle stick è che vedete i tappeti verdi e rossi che si vedono spesso su questi mercati che quindi su tutti i mercati non solo forex vi fanno vedere quello che il trend in corso e quando cambia colore come in questo caso qui vi fa pensare anche ad una possibile inversione quello che qui effettivamente sul petrolio anche dopo gli accordi che ci sono stati in algeria quelli di in turchia si va settimana prossima fine settimana prossima oltre nuovi incontri questo fine settimana si incontreranno arabia saudita e russia insomma proseguono tutte le speculazioni poco fa detto la rosnet una delle società più importanti che produce 40 per cento del petrolio che ha sempre ribadito il concetto non siamo disposti a tagliare congelare tagliare la produzione andiamo bene così perché dobbiamo limitarci e quindi prevede un aumento della produzione quindi davvero dura arrivare al 30 novembre quando si incontreranno i paesi opec a ratificare gli accordi presi in algeria fatto stare che il petrolio continua a spingere queste candele rosse su questa resistenza 51 e 68 sembrano proprio una pausa caffè per un trend un viaggio al rialzo che potrebbe proseguire tranquillamente subito dopo c'è già un altro livello che lo aspetta in area 53 e 65 anche il gold se il buongiorno si vede dal mattino il gold è partito decisamente bene l'inversione eccola qui dal supporto in area 1251 dopo la discesa il crollo con la rottura del supporto 1310 anche questo un grafico dei la giornata ieri siamo adesso ancora intorno ai 1270 dollari mi giro perché vedo i monitor in 3d in tempo reale e quindi significa un dollaro che si svaluta perché questa vedete proprio xao scritto qui in alto xao usd cioè dollaro oro oro si giusto tutto bene oro quotato in dollari quindi se il dollaro scende loro senza volerlo si sente lievitare salire al rialzo stesso discorso petrolio petrolio è quotato in dollari quindi anche questo qui quotato a new york potrebbe beneficiare di questa svalutazione del dollaro dollaro che oramai l'ho detto ridetto tantissime volte in tutte le salse si aspetta oramai l'elezione del nuovo presidente degli stati uniti e ripeto ancora una volta se vince la clinton tutto resta come siamo abituati ad adesso vero seguiremo i dati macro seguiremo le dichiarazioni dei membri della fed tutto come siamo stati abituati fino adesso in caso di vittoria di trump è tutto un punto interrogativo perché contro la yellen dichiaratamente apertamente contro la yellen ha detto che la politica dei tassi bassi ha inciso negativamente sulle speculazioni sull'andamento di wall street ed è vero e quindi insomma perché ha portato avanti buyback azionari un sacco di motivazioni creando una bolla un debito tutto il resto insomma però è come sempre ho detto in questi giorni i mercati non si schierano politicamente vogliono certezze se trump sarà in grado se sarà eletto e darà delle certezze i mercati lo andranno a sostenerlo con acquisti vedremo su wall street di dollaro quello che sarà quello che ci dirà trump ma adesso ancora presto manca ancora tempo fino al giorno dell'elezione 8 novembre sapremo quindi 9 novembre i risultati e c'è quindi oro al già rialzo rimbalzo petrolio che sta oramai lì bussando resistenza con in vista una possibile violazione l'euro resta abbiamo visto debole contro il dollaro resta quindi ancora al ribasso dollaro che qui prima ogni tanto durante la giornata appare una possibile candela rossa potrebbe invertire al ribasso attenzione questo è correlato inversamente con l'euro dollaro quindi dovrebbe proseguire la strada al rialzo se dollaro franco svizzero dovesse cominciare invece a vedersi una candela rossa è già il fatto che con la rottura di questa resistenza non c'è stata l'accelerazione già vuol dire che stenta ad andare oltre ma perché stenta perché gli operatori non prendono posizioni stanno stiamo stanno aspettando chi sarà il futuro presidente degli stati uniti dollaro yen invece ha disegnato come già chi segue questa videoanalisi forex sa una candela rossa sulla resistenza 104 e 31 però c'è un indice nikkei tokyo che sta in questo momento testando la resistenza 17 mila un'eventuale violazione potrebbe portare ad un'accelerazione dollaro yen è correlato positivamente intermarket tra mercati differenti quindi anche qui questa impostazione queste candele rosse potrebbe essere giusto una pausa in un trend che potrebbe tornare a salire al rialzo anche se vedete in alcune parti c'è un dollaro debole in altre situazioni altre combinazioni dollaro forte qui per il momento il grafico ci dice che potrebbe scendere dollaro indebolirsi a favore dello yen una notizia che non piace sicuramente alla banca centrale del giappone sterlina ad alta tensione oramai ci siamo abituati intorno alle 11 le 12 arrivano delle dichiarazioni poco fa quelle del ministro brexit davis che ha parlato su quello che potrà essere la libera circolazione di persone detto noi siamo disposti a accettare persone illuminate intelligenti cioè per dire non è che non vogliamo la gente all'interno della nostra paese quindi si non è ancora definita la decisamente non è definita e non lo è fino a quando ancora brexit non esiste perché non è stato attivato l'articolo 50 quindi graficamente ci dicono questi grafici a chi nasce che potrebbe invertire sterlina contro dollaro però non è detto che siamo obbligati a essere operativi al 100 per cento se non ci piace essere al rialzo contro ovviamente in questo momento sulla sterlina invece ci sono delle situazioni interessanti nelle commodity currency da rilevare la rottura della resistenza aud cad quindi in questo momento per effetto dell'australiano contro dollaro perché aud cad non cammina da solo qui è matematico la quotazione di aud cad dipende da australiano contro dollaro dollaro contro cad e questo è matematico quindi che cosa sta succedendo che l'australiano contro dollaro già con queste candele verdi e chi nasce dopo che veniva dalla correzione della resistenza 0 77 12 queste candele chi nasce già hanno invertito nel breve il trend ufficialmente possiamo dire che siamo rialzo con la rottura violazione del livello 0 77 12 usd cad è vero che a sua volta è in una possibile discesa ma con quello che è accaduto ieri sembra voler invertire il trend risultato uguale aud cad ha rotto la resistenza e quindi potrebbe in questo momento ora accelerare al rialzo vediamo fino dove dobbiamo aggiungere altre barre perché potrebbe farne veramente di strada prossimo livello 1 0 3 3 lo vedete lì e poi 1 0 718 però dipende come sempre dai rapporti forza tra chi sarà più forte tra australiano contro dollaro o dollaro contro cad altra situazione interessante questo è molto questo è un cross decisamente un po il termometro intermarket proprio anche di mercato azionario perché se dollaro yen è correlato positivamente con wall street e l'indice nick e tokyo usd cad è un po il bunde del forex l'obbligazionario che quindi va in maniera segue in maniera inversa wall street togliamo il dollaro lasciamo kdn è un termometro anch'esso e ora c'è stata la nuova candela rossa ai kinashi che insomma potrebbe non essere una buona news per l'azionario però come sempre vediamo se in questo momento di conferme sicure di difficile averne sempre per il discorso scusate se sono ripetitivo ma è la realtà dei fatti in questo momento si aspetta l'elezione del nuovo presidente stati uniti a proposito di dollaro yen e gold vediamo chiudo anche con i due questa correlazione protagonista del 2016 sopra c'è oro sotto c'è dollaro yen questo 2016 vedete come sono andati in qualche modo d'accordo anche se prendevano strade diverse prosegue quindi il trend rialzo è tornato a puntare a nord il gold che è in alto grafico in alto mentre dollaro yen sembra voler puntare nuovamente in basso e qui correlazione intermarket dollaro gold bene rifugio risk off quando l'azionario risk off dollaro yen se scende correlazione positiva con wall street risk off quindi sarà risk off anche sull'azionario non lo so insomma vedremo in questo momento questo ci stanno dicendo queste possibili correlazioni dove però l'elemento è usd che in questo momento è un punto interrogativo aspettando il futuro presidente stati uniti io mi fermo qui grazie per l'attenzione buona giornata buon trading appuntamento domani con una nuova video analisi forex arrivederci ciao 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 Grazie.